sono 7 51 del 22 maggio 2024 ho appena qui iniziato a facciare dei ritocchi qui in mezzo mentre la gran parte dello spazio tra gli alberi qui da frutto praticamente ho pagato una persona e qua che ha fatto una bella presata qui e anche qui adesso il mio terreno è un ettaro di terreno il mio che prosegue anche qui ovviamente un ettaro mezzi chilometri di lunghezza tra cui ci sono circa altri 200 metri che proseguono oltre la variante quindi qua non ho fatto presare perché ci potrebbe essere qualche pietra ci devo dare una palciata e qui adesso sta per transitare in alto ecco qui è la variante adesso devo attraversare la variante per andare a facciare l'altro mio terreno ma non è presato quindi passate un camioncino attraversato il posto di maniale eccomi qui vedete ecco qui e questo è l'altro mio terreno ma non è solo il mio terreno per 1.300 metri questa variante attraverso i terreni diciamo circa 100 vecchi indestate perché qua le trascricce non sono state fatte per esempio ci motiva perché questa variante ancora risulta terreni agricoli come si evidenzia dell'ortofoto in possesso delle cenze delle entrate bene